Abbiamo detto al Presidente del Consiglio che in questo momento per la nazione è importante non avviare nessuna crisi di governo. Significherebbe lasciare appesi centinaia e centinaia di famiglie in vertenze come la nostra. Una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo. Lo hanno sottolineato con forza gli operai della delegazione di Whirlpool, accompagnata dagli esponenti di Leo, Pierluigi Bersani e Arturo Scotto, uscendo da Palazzo Chigi dove ha consegnato il calendario sulla nostra pelle al Premier Conte. Il Presidente ha molto apprezzato l'iniziativa del calendario e ci siamo confrontati sulla vertenza. Hanno detto i operai che componevano la delegazione dei tre dipendenti dello stabilimento di Napoli. Volevamo sottolineare la forza e la dignità di 350 famiglie. Siamo venuti qui con la speranza di riportare sotto i riflettori nonostante la pandemia la nostra vertenza. Il gruppo è stato anche ricevuto dal Ministro per gli Affari UE, Enzo Amendola, il titolare della Delega per il Sud, Peppe Provenzano. Anche il Premier Conte, così come qualche ora prima il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito incomprensibile una crisi in un momento come questo. Il lungo Consiglio dei Ministri di ieri ha fatto temere un'esplosione della maggioranza nel momento in cui l'Italia è alle prese con la pandemia e con una profonda crisi economica di cui fa parte naturalmente la Whirlpool.